Oggi è mercoledì 20 dicembre 2017, ci troviamo al nuovo di via Olimpia, sarebbe il primo impianto sportivo di Castelfrentano per la gara di recupero, gara di recupero campionato giovanissimi girone di Chieti, oggi scenderanno in campo la Virtus Castelfrentano che vedete da questo lato, indosseranno la seconda divisa bianca con risvolti giallorossi contro i pari età del casale in gamba, sarebbe casale incontrata, qua c'è il nostro mister dei giovanissimi Giovanni Di Giulio, nell'occasione c'è anche mister Simone là in ponto con il gruppo di ragazzi che partiranno dalla panchina, c'è anche mister Gabriele Di Felice il nostro coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile, ecco vediamo qua il piccolo Ramundi, Alex Maramieri, Luca Rulli col numero 10, 3 c'è Tenaglia Nicola, abbiamo Di Donato Federico con il numero 2, Maglia numero 2, come ho detto numero 11 Alex Maramieri, numero 10 Luca Rulli, numero 2 Federico Di Donato, numero 3 Nicola Tenaglia, ecco adesso Di Donato c'è Ramundi, Alessandro pure, che giocherà con la maglia numero 7, qua c'è Riccardo, Riccardo con la maglia numero 8, c'è Enrico Caporale con il numero 9, c'è il nostro Pitbull Lorenzo Cuniberti con il numero 6 se non sbaglio, dopo c'è anche Manuele Caporale con il numero 5 e abbiamo con il numero 4, Nicolo Dancelo, qua abbiamo Mister Simone Giordano che oggi funge da collaboratore di linea, segnalibro, adesso stanno riscaldando i nostri ragazzi, la temperatura è rigida, è prevista la neve da previsione, ma qua abbiamo Fabio Masciarelli, in porta c'è Daniel Ucci, Masciarelli Fabio sta qua, Frango di Fresco sta qua, con il numero 16, 17 Masciarelli, Fabio Masciarelli con il numero 1 Ucci Daniel, qua abbiamo anche Alex Mammarella che giocherà con la maglia non mi ricordo, dove abbiamo pure Di Fresco Matteo e oggi c'è l'esordio mi pare, l'esordio nei giovanissimi, no la seconda gara, la seconda gara convocato dalla categoria esordienti Nasuti Andrea con il numero 15, è il fratello di Cristian che gioca con gli allievi, qua abbiamo l'Arnè con il numero 18, il 14 c'è Matteo Di Fresco, giusto? Adesso i ragazzi stanno riscaldando, si sono scaldati i muscoli, hanno utilizzato anche l'olio di campo, una volontà per riscaldare i muscoli delle gambe, in fondo vedete con la casacca è l'arbitro, il signor La Pietra della sezione Aia di Lanciano ecco che si riscaldano il gruppo che partiranno da titolari